Nella serata di giovedì 28 febbraio nella sala consigliare del comune di Caselle Torinese è partito il progetto che vede coinvolti i carabinieri e comune per la creazione di uno sportello di ascolto. Presenza importante è quella del comandante della stazione di Caselle, il luogotenente Fabio Fornaiolo che ha illustrato il progetto insieme al sindaco Luca Baracco e Angela Grimaldi, assessore alle pari opportunità. L'amministrazione della città di Caselle Torinese ha aderito con entusiasmo a questo progetto dell'arma dei carabinieri di aprire gli spazi pubblici dal palazzo comunale e altri all'arma dei carabinieri per affrontare delle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini delle categorie che vivono nella nostra comunità. Sarà un'esperienza nuova, importante, che permetterà di fornire delle informazioni e anche un momento di formazione per i cittadini ma al tempo stesso anche un'occasione per i cittadini stessi di incontrare l'arma dei carabinieri in un contesto non meno formale, meno istituzionale rispetto a quella della caserma e della stazione locale che resta comunque il luogo principale per fare le segnalazioni. Però in questo modo si viene a creare uno spazio di incontro più diretto, più immediato. Gli incontri saranno organizzati nei prossimi mesi coinvolgendo sia la comunità di Caselle sia la città di Borgano. Verrà dato comunicazione tramite un calendario di questi appuntamenti che saranno in una prima parte basati su dei temi specifici che verranno affrontati dai carabinieri e poi ci sarà appunto lo spazio di ascolto, di sportello e per segnalazioni, domande da parte dei cittadini stessi. Una importantissima iniziativa dell'arma dei carabinieri che è volta proprio a potenziare, aumentare all'interno della comunità è quel senso di sicurezza che non può nascere se non dalla collaborazione e dell'interazione di tutti, le istituzioni, le forze dell'ordine e i cittadini e le categorie che all'interno della comunità vivono. Per cui un plauso e allarma dei carabinieri, nel caso specifico un ringraziamento ai carabinieri della stazione di Caselle e al loro comandante, il maresciallo Fabio Fornaiolo, che ha proposto e porterà avanti questo importante progetto. Soddisfatta e felice Angela Grimaldi, assessore alle pari opportunità, che ritiene un passo importante della città nel contrastare in modo diretto la criminalità e la microcriminalità presente sul territorio. Siamo molto felici di poter percorrere insieme al comando dei carabinieri di Caselle questo percorso, questa iniziativa. In qualche modo avevamo iniziato a tessere alcune forme di rapporto in tal senso con incontri volti alla sicurezza degli anziani. In questo caso, oltre agli anziani, andremo a individuare anche tutta una serie di fasce così definite più sensibili, più deboli e sarà permesso loro di accedere in questo palazzo comunale in modo anche abbastanza discreto. Molto spesso si fa fatica ad avere un rapporto diretto con la stazione dei carabinieri perché è vista un po' come un luogo in cui effettuare solo denunce. In realtà il rapporto con i carabinieri non deve essere solo questo, ma può essere un rapporto di fiducia, di confronto e anche di consiglio perché molte sono le cose a noi sconosciute, molte cose invece che diamo per scontate tali non sono e il modo di proteggersi da truffe, da sconosciuti che in qualche modo minano alla nostra sicurezza quotidiana e non è così scontato. Quindi siamo molto lieti di questi incontri anche perché si andranno a rivolgere un po' a tutte le categorie della nostra società. I prossimi incontri probabilmente in giugno e in settembre con date da specificare verteranno come tematiche su furti in appartamento, difese sulle violenze domestiche, quindi donne e bambini. Il rapporto che si vuole instaurare anche con le scuole è di fondamentale importanza perché l'educazione alla legalità sin da piccoli aiuta a crescere in una città più sicura.